Nel 2013 Nvidia ha lanciato per la prima volta la GPU Titan, una scheda dalle prestazioni elevate soprattutto in termini di memoria. Una scheda video pensata anche per creatori di contenuti video e non solo i gamer. Oggi viene lanciata ciò che a tutti gli effetti l'erede della Titan RX, ossia RTX 3090. Sigla! Ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi, io sono Alessandro e con me oggi, ospite d'onore, la nuova RTX versione Trinity prodotta da Zotac, un forattino che è un concentrato di tecnologia. Scherzi a parte e riassunti in poche parole, parliamo di 24 GB di memoria per giocate fino a 8K, ma soprattutto tanta tantissima memoria su Premiere Pro, After Effects, Final Cut, Da Vinci, Sony Vegas, Windows Movie Maker, iMovie, no, iMovie no. Senza entrare troppo nello specifico, CUDA Core, memoria passante, dati vari, sono facilmente reperibili online. Oggi voglio fare un unboxing puro per darvi qualche dato generico e farvela vedere montata sul mio attuale rig, parlando esclusivamente di questo modello prodotto da Zotac. Per prima cosa tiriamo fuori tutto quanto. Quassù in piccionaia dovremmo esserci, iniziamo ad aprire. Anche qua, in questo caso, la sto aprendo per la prima volta con voi, non è vero. L'ho solo aperta per vedere che effettivamente non ci fosse un mattone dentro. Allora, abbiamo scatola molto minimal, qui immagino ci saranno adesivi e modulistica varia, ma ciò che a noi interessa è la cavetteria, che poi ce ne occuperemo. Mettiamo tutto al suo posto. Prima di toccarla, scarico un attimo. Mai toccare a mani nude o senza aver scaricato energia statica. Componenti elettrici. Eccola qua. Wow. Beh, gran figata. Abbiamo tre display port e un HDMI. Allora, raffrontata la Founders Edition, ossia quella messa in commercio direttamente da NVIDIA, la differenza di design è pressoché notevole. Il raffreddamento è un classico tre ventole a cui Zotac ormai ci ha abituati e che ha il nome di Ice Storm 2.0. Le alette delle ventole sono in alluminio e i tubi passanti in rame. Occupa due slot e mezzo. È grande, ma c'è assolutamente chi la supera. Dietro abbiamo, come detto, tre display port e un HDMI. Nella parte superiore il logo che sarà retroilluminato in RGB, customizzabile tramite l'app. Parlando di cose interessanti, ho fatto dei test su Premiere Pro. Ho effettuato un rendering con la 2080 e cronometrato il tempo per completarlo, poi ho eseguito lo stesso test con la 3090 ed ecco il risultato. Un altro test che ho voluto fare, in fase sempre di editing, ho creato una luce artificiale, effetto che richiede sempre molta memoria e ho raffrontato la cosa in termini di fluidità. Non c'è che dire, questa scheda è veramente un mostro. Bene ragazzi, se vi ho fatto sognare e venire la bava alla bocca, fatemelo sapere commentando il video qui sotto. Intanto vi chiedo di mettere un like al video e di seguirmi sui vari social sempre se vi fa piacere. Alla prossima, ciao!